E leggerò ancora i vostri messaggi, rimanete su Radio Italia, solo musica italiana. E leggerò anche la chiesa, perché la stessa mia madre ci ha detto che la chiesa non spende sicuramente tre vite, per un punto di vista di continuo, ma la chiesa è un po' più importante, adesso è un po' più importante. Andreremo ragione, anche perché poi, secondo me, alle 10 mesi, nel giorno, se ne tenete star saliente, se ne avete passato il governo, ieri che facciano, non che gli altri sono che al momento non ci stimo, ma in questa modo, in quel momento ci appartiamo che TikTok ci stiamo. Guarda un po', invece Twitter, alla riscorda, faccio parlare, che trampe, proprio il fatto che, anche, diciamo, l'ideologia consumistica, Grazie a tutti. Grazie a tutti.